buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale nel video di oggi andremo a vedere insieme una presale una raccolta fondi ovvero una ico che partirà l'otto settembre su coin list sto parlando di immutable x è il suo ecosistema che gira sui tirium è il mondo nft e andiamo a vedere il suo funzionamento come partecipare alla ico dopo la sigla siamo su con liste punto co questa piattaforma è un exchange un wallet una piattaforma di landing una piattaforma di stechi ma soprattutto è una piattaforma che ci permette di partecipare ad alcune raccolte fondi ad alcune ico avevo già parlato di questo sistema mi pare con la video recensione di e finiti ed oggi invece andiamo a vedere immutable x una ico molto interessante che verrà lanciata nei prossimi giorni per poter partecipare alla ico dovete registrarvi a coin list dopodiché dovete cliccare su token sale selezionare la ico di vostro interesse in questo caso immutable sale e verrete catapultati sul sito di mutable x dedicato a coin list dove potrete registrarvi alla pre sale come vedete la registrazione avete una deadline che scadrà il 2 settembre a mezzanotte passiamo subito prima di spiegarvi che cos'è immutable x a vedere le opzioni di sale abbiamo opzione 1 e opzione 2 i dati interessanti sono quanti token verranno rilasciate per questa sale l'opzione 1 400 mila token l'opzione 2 600 mila token ma soprattutto quanto costa un token nell'opzione 1 costa 10 dollari nell'opzione 2 15 dollari per quanto riguarda i minimi sono 100 dollari minimo e massimo 500 dollari si può acquistare tramite usdt usdc ethereum e bitcoin il 19 ottobre 2021 poi verranno rilasciati i token per l'opzione 1 ci sarà un rilascio un pochino più lento distribuito in sei mesi mentre per l'opzione 2 quella 15 dollari per token un rilascio graduale in tre mesi per potervi registrare dovete scegliere ovviamente l'opzione 1 opzione 2 cliccate su registra ora e dovrete poi seguire i passaggi per completare il che essi e poi ottenere l'accesso alla presale per quanto riguarda la token omics il token imx servirà prima di tutto per avere degli sconti sulle fee delle transazioni anche se alcune transazioni saranno gratuite molte avranno bisogno del token per essere approvate sarà un token di governance dove i token hold e potranno usare il token imx per avere un voto sulle decisioni e il futuro di multiple x e ovviamente anche proporre delle innovazioni in più il token imx per sempre per il token hold e potrà essere messo a rendita per quanto riguarda la fornitura totale saranno 20 milioni di token qua vediamo la distribuzione dove un dato importante il 51,74 per cento verrà detenuto per lo sviluppo dell'ecosistema 25 per cento lo sviluppo del progetto il 5 per cento per la vendita pubblica e il 4 per cento per una riserva ovvero per fornire liquidità per gli scambi marketing e altre funzioni del progetto l'ecosistema di mutable x è già ben definito sono parte di open si è come il uvion quindi anche dei giochi su block chain super farm animo che brand king win veramente tanti tanti partner i sostenitori galaxy digital coin base ftx e uobi venture defy alliance che netic anche i sostenitori contributori di questo ecosistema di questo progetto sono dei nomi altisonanti ma vediamo che cos'è immutable x immutable x è il primo layer 2 per nft che gira sulla block chain di eti rium dove ogni transazione all'interno di questo protocollo sarà confermata immediatamente avrà fi bassissime e per alcune operatività addirittura 0 fi infatti punti di forza di questo ecosistema sono l'estrema velocità e la sicurezza data da eti rium purezza data anche dal fatto che il protocollo non è custodia quindi significa che abbiamo sempre il pieno controllo dei nostri beni superando la difficoltà per quanto riguarda i tempi di costruzione anche le fi ovviamente immutable x con le sue api riescono ad abbassare la barriera d'ingresso per gli sviluppatori che intendono creare un qualcosa su questo protocollo sulla block chain di eti rium immutable integra persino alla tecnologia zk roll up di stakeware che consente di coniare scambiare istantaneamente gli nft addirittura senza commissioni sul gas ed è un grande passo avanti perché tutti gli ecosistemi nft utilizzano eti rium come ben sapete hanno la falla del gas quindi una volta che avrete deciso se partecipare o meno questa raccolta fondi vi ricordo che ovviamente non sono consigli finanziari dovete registrarvi come vi ho fatto vedere sul link in fondo superare il che gli essi parare un piccolo quiz dove vi viene dove vi vengono chieste alcune informazioni per quanto riguarda lato che in selle è il progetto ma sono veramente semplici e potete comunque andarveli a leggere dopodiché potrete partecipare alla raccolta fondi il giorno della raccolta fondi dovrete ovviamente far trovare all'interno del vostro portafoglio usdt usdc e tiro o bitcoin per poter comprare velocemente il token un consiglio che vi posso dare è inviare direttamente delle cripto valute da un exchange esterno a coin list e per fare ciò si va sul portafoglio controlliamo un attimo tra le valute supportate quella che è più consono a un trasferimento per riuscire a pagare meno fi e quella che mi sembra un pochino meno cara e algo per depositare algo la potete comunque comprare su binance e poi inviarla direttamente all exchange a coin list alla voce deposita selezionate algo depositare vi genera il qr code che poi andrete a incollare sull'address di invio di binance e le invierete a questo indirizzo una volta che le avrete ottenute all'interno di coin list basterà andare poi su buy e sell e andare a vendere il nostro algo per una valuta supportata dalla eco quindi in questo caso al posto di bitcoin si va a selezionare algorand e qua sotto ad esempio si può andare a selezionare usd coin che è la valuta come abbiamo visto supportata per l'acquisto inico del token bene siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento vi invito ad iscrivervi al canale qualora non l'abbiata ancora fatto ad unire la nostra community telegram per fare due chiacchiere insieme a noi per restare in nostra compagnia e lasciarmi un like ovviamente se il video vi è piaciuto noi ci vediamo domani con un altro appuntamento ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti